Prince Harry, Spear, il minore, parte seconda, capitolo undici. La sala operativa di Dyer era una scatola avvolta in mimetica da deserto. Il pavimento era di spessa plastica nera e realizzato con pezzi interconnessi, come un puzzle. Faceva un rumore strano quando lo attraversavi. Il punto focale della stanza, in realtà dell'intero accampamento, era il muro maestro, su cui c'era una cartina gigante della provincia di Helmand, con delle puntine gialle, arancioni, verdi e azzurre, e a rappresentare le unità del gruppo di battaglia. Fui accolto da Baxter, il corporal of a horse, più vecchio di me, ma dei miei stessi colori. Scambiamo qualche battuta sarcastica, un sorriso messo sull'involontaria appartenenza alla lega dei gentiluomini, pel di carota, e anche alla fratellanza spelacchiata. Come me, Baxter stava perdendo rapidamente i capelli. Richiesi di dove fosse. Contea di Huntrim. Irlandese, eh? Sicuro. La sua cadenza mi fece pensare che forse lo si poteva prendere in giro. Lo mise in difficoltà su suo essere irlandese. E lui rispose per le rime, ridendo, ma i suoi occhi azzurri tradivano in certezza. Perbacco, sto sfottendo un principe. Ci mettemmo al lavoro. Mi mostrò diverse radio sistemate lungo una scrivania sotto la cartina. Mi mostrò il terminale rover, un piccolo laptop tozzo, con le frecce di una bussola stampinata lungo i lati. Queste radio sono le tue orecchie, questo rover i tuoi occhi. Con quelli avrei fatto un quadro dal campo di battaglia, poi avrei cercato di controllare cosa vi accadeva dentro e sopra. In un certo senso, non sarei stato diverso dai controllori del traffico aereo di Hetero. Avrei passato il tempo a guidare i jet avanti e indietro. Ma spesso il lavoro non sarebbe stato così affascinante. Sarà stata una guardia di sicurezza, intenta a monitorare con gli occhi appannati i segnali di decine di telecamere, montate su qualsiasi cosa, dai velivoli di ricognizione ai droni. L'unica cosa contro cui avrei combattuto sarebbe stata la sonnolenza. Salta su, prendi una sedia, tenente Wales. Mi schiarii la gola e mi sedetti. Guardai il rover e continuai a guardare. I minuti passarono. Alzai il volume delle radio. Lo abbassai. Baxter ridacchiò. Il lavoro è questo. Benvenuti in guerra.